Il nome è out, è emerso in questi giorni un bando regionale del quale pare quasi nessuno sapesse nulla. In realtà sono due le persone che si sono presentate, che hanno fatto domanda per questo bando e uno dei quali è Ilio Pasqui, tesoriere del PD regionale. Allora, questo nome ha mosso un gran tormentone perché ha riacceso alla polemica sulla capacità della Valtiberina di far pesare la propria importanza a livello istituzionale e soprattutto per quanto riguarda la questione Montedoglio. Allora, qual è la sua posizione a riguardo? Beh, io dico la cosa veramente scandalosa è che mentre c'era un bando aperto e a quanto sembra prendendo la buona fede dei sindaci di Anghiari e Sansepolcro loro ne erano completamente all'oscuro e andavano a tranquillizzare i cittadini che si sarebbero prodigati per cercare di far sì che uno dei membri di quel Consiglio di Amministrazione, quello rappresentante della parte toscana, fosse proprio un Valtiberino, proprio in quel periodo era aperto un bando in cui loro non hanno, diciamo, proposto o consigliato a nessun personaggio della Valtiberina di fare domanda. Quindi o è una clamorosa presa in giro, cioè i sindaci hanno volutamente fatto finta di voler rappresentare il territorio ma magari sotto indicazione del partito gli è stato consigliato di non far candidare nessuno in modo che se nessuno era candidato alla Valtiberina nessuno comunque sia poteva prendere quel posto o altrimenti c'è da verificare che probabilmente è una clamorosa incompetenza perché non si può essere sindaci e amministratori e non sapere quello che ci accade intorno. La cosa grave è che anche in campagna elettorale c'è stato propinato la volontà di fare della Valtiberina unendo i comuni di Anghiari e Sansepolcro un punto forte e rappresentativo c'è stato raccontato che c'erano forti rapporti comunque sia con la regione toscana che avrebbero portato beneficio al nostro territorio regione toscana che praticamente ha guardato bene di informare i nostri sindaci, i nostri amministratori ma soprattutto i cittadini della vallata che c'era questo bando aperto e che quindi se volevano un rappresentante avrebbero dovuto incaricare qualcuno. Altra cosa grave successivamente anche alla scadenza di questo bando sono stati chiesti ripetutamente degli incontri da parte dell'amministrazione sia di Anghiari che di Sansepolcro della stessa Unione dei Comuni di cui faccio parte perché sono un consigliere dell'Unione dei Comuni sono stati chiesti degli incontri che sono stati ripetutamente rimandati questo vuol dire che sia l'amministrazione di Anghiari che di Sansepolcro non è tenuta assolutamente in considerazione dalla regione toscana come peraltro i cittadini di tutta la vallata non lo sono e quindi dovrebbero un attimino ribellarsi a questo e ricordare un attimo quando in quelle famose riunioni venivano rassicurati della volontà di fare qualcosa ma in realtà ancora non si è visto niente sappiamo già, perché bene o male lei ha già fatto dei nomi su cui io nulla voglio dire perché sicuramente se intanto hanno presentato la domanda sono stati più competenti di altri che ne erano all'oscuro però dei nomi sono stati fatti sappiamo che salvo colpi di scena eccezionali ma che dubito ci siano visto come stanno andando le cose fino adesso e realmente nessuno ha alzato un dito veramente per fare qualcosa quelle manifestazioni che i sindaci hanno detto avrebbero fatto in mancanza della nomina di un rappresentante della nostra vallata io credo che sia opportuno farle adesso prima che quelle nomine vengano ufficializzate se no altrimenti è inutile piangere sul latte versato sappiamo già quale sarà l'epilogo di una storia triste comunque per la Valtiberina